Bentornati sul mio canale, dunque sono a Berlino, qui ospite di Xiaomi, per il lancio dei nuovi Xiaomi 12T che sono stati appena ufficializzati dall'azienda cinese. Ho già pubblicato l'unboxing dello Xiaomi 12T Pro e adesso invece spacchetterò con voi lo Xiaomi 12T. Bene, non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a conoscerlo più da vicino. E allora, eccola la confezione italiana dello Xiaomi 12T che andiamo immediatamente a spacchettare insieme, apertura come sempre verso l'alto. Qui troviamo subito il cartoncino classico, devo dire, delle confezioni di Xiaomi con tutta la manualistica e in questo caso anche con una cover in silicone semirigido trasparente che devo dire fa sempre sempre piacere. Qui abbiamo lo Xiaomi 12T che ho già aperto e fatto la prima configurazione perché ovviamente volevo farvelo vedere come dire acceso, lo guarderemo tra pochissimo. Perché? Perché poi voglio farvi vedere anche qui al di sotto vedete c'è questo caricabatterie enorme da 120 Watt che insomma dovrebbe ricaricare particolarmente velocemente la batteria anche perché qui abbiamo una batteria da ben 5000 mAh e ovviamente poi cavetto USB-A USB-C. Bene, portiamo subito sotto la nostra lente di grandimento lo Xiaomi 12T. Vedete sblocco delle impronte integrato nello schermo che insomma a prima vista mi sembra funzionare bene ma avrò un modo poi di raccontarvelo nella recensione nelle prossime settimane. Esattamente come il 12T Pro, schermo frontale da 6,67 pollici, AMOLED, 120Hz, 2712x1220 pixel. Anche qui supporto allo standard HDR10 quindi pannello che sembra essere praticamente lo stesso del fratello maggiore. Ciò che cambia è certamente il comparto fotografico perché qui non abbiamo il sensore principale da 200 megapixel ma qui scendono a 108 megapixel sempre accoppiato a un grand'angolo da 8 megapixel e a una macro da 2 megapixel e quindi anche qui niente teleobiettivo. Sulla parte frontale invece troviamo questa fotocamera anteriore anche qui da 20 megapixel quindi sono diversi i tratti in comune tra questi smartphone. Rispetto però a quanto accaduto tra Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 in questo caso la piattaforma è differente perché non abbiamo lo Snapdragon 8 Plus Gen 1 ma abbiamo il Mediatek Dimensity 8100 Ultra con 8 GB di RAM quindi non c'è la possibilità di avere un taglio di RAM superiore. Ovviamente vedete sulla parte posteriore questa colorazione della scocca nera anche lui arriva nelle colorazioni black, silver e blu. Siamo sui 202 grammi quindi anche qui uno smartphone che comunque si sente tra le mani sembra molto molto solido insomma questo dovrebbe essere anche in questo caso sembrerebbe vetro ma poi avrò modo chiaramente di capirlo con l'azienda spessore di 8,6 mm e come detto prima abbiamo appunto questa batteria vediamo se riusciamo eccoci a riportarlo sulla home abbiamo questa batteria da 5000 mAh ovviamente dual speaker supporto allo standard dolby atmos dual sim nfc bluetooth 5.3 c'è ovviamente il supporto allo standard 5g insomma un prodotto decisamente interessante è un prodotto ancora più interessante perché perché qui abbiamo dei prezzi di lancio che partono da 599 euro versione 828 gigabyte e salgono a 649 euro per la versione 8 giga di ram e 256 gigabyte di memoria quindi insomma anche qui devo dire un prezzo lancio decisamente aggressivo questo potrebbe essere un prodotto insomma che è in grado di trasformarsi come dire nel best seller della serie anche perché lo ripeto qui abbiamo questo dimensity 8100 che è devo dire un eccellente processore io l'ho già provato in altri terminali e quando viene ben implementato insomma si comporta molto molto bene insomma lui è lo xiaomi 12 t anche lui arriva con alcune offerte di lancio che vi racconto nell'articolo che ho realizzato per correre dalla sera che vi linko in descrizione andatelo a recuperare perché devo dire che le offerte di lancio sono molto molto interessanti apertura preordine a partire da domani e poi ovviamente avremo come dire modo di racconto avrò modo di raccontarlo con calma nella recensione completa bene io per questo video ho concluso e noi ci vediamo nei prossimi giorni ciao 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 ciao